Un cordiale saluto, ben ritrovati a tutti carissimi telespettatori di Fano TV sul canale 17 come tutti i giorni da lunedì al sabato alle 7 e mezzo del mattino in diretta c'è la rassegna stampa ovvero un'occhiata ai giornali. Occhio ai giornali è infatti il nome, il titolo di questo appuntamento che apre la giornata informativa su questo canale, il canale locale, un canale che si occupa della città di Fano, dell'entroterra insomma questa è la nostra missione quella di informarvi e di raccontarvi i fatti che accadono ogni giorno e lo faremo tra poco anche con i giornali prima guardiamo il santo del giorno. Oggi è Sant'Elia, il sole è sorto alle 5.42 e tramonterà alle 20.46. Il tempo, questa è la fotografia del nostro osservatorio meteorologico di Fano TV che pubblica ogni minuto uno scatto fotografico, l'immagine si riferisce alla parte di Fano con sulla sinistra l'inizio della collina di Monte Giove. La temperatura è di 25 gradi, 26 gradi per chi ci segue in diretta alle 7.30. Da notare, ecco qua il dato della pioggia, questo poi vi dirò anche perché, la pioggia del mese che è caduta in questo mese, oggi siamo al 20 di luglio, sono caduti nel mese di luglio soltanto 2 mm di pioggia. Nulla a che vedere con quello che successe l'anno scorso, quando ricorderete il mese di luglio è stato un mese molto piovoso, bisognava cercare la giornata di sole per prendere giusto un po' di tintarella. Quest'anno è tutta un'altra cosa invece, con sole pieno e le previsioni come vedremo tra poco anche sul messaggero, indicano che la settimana prossima sarà ancora una settimana di gran caldo, quindi bisognerà mettersi l'animo in pace e soprattutto laddove è possibile magari prendere anche qualche precauzione e quindi magari qualche soluzione con un ventilatore o chi può un condizionatore. Il tempo per oggi, queste sono le previsioni invece della protezione civile della regione Marche che indicano per oggi cielo sereno poco nuvoloso con qualche addensamento pomeridiano solo sui rilievi centro-meridionali, le temperature sono stazionari oppure il lieve aumento, il mare sarà poco mosso. Per la giornata di domani martedì 21 luglio avremo cielo sereno poco nuvoloso con qualche addensamento lo stesso nella parte centro-meridionale dei rilievi, non ci saranno ovviamente precipitazioni mentre le temperature sono stazionari oppure in lieve aumento. Il mare sarà quasi calmo, poco mosso durante le ore pomeridiane. Probabili condizioni di bel tempo sulle Marche anche per il resto di questa settimana che inizia oggi, con temperature ancora oltre i valori tipici del periodo. Allora, andiamo subito sulla pagina di Fano del Messaggero. Sui giornali questa mattina si parla molto della tanta gente, delle spiagge che sono state prese d'assalto dai turisti e non solo dai turisti, e quindi con conseguente caos per quello che riguarda il parcheggio, la sosta, cosiddetta sosta selvaggia. Mancano i parcheggi sul nostro litorale e di conseguenza scattano le multe. Ma non è solo un problema di multe, perché? E qui andiamo a vedere il messaggero. Parcheggio selvaggio blocca un'ambulanza del 118. È successo sabato pomeriggio alla spiaggia di Gimarra. Il consigliere di minoranza Santorelli, che è stato anche ex assessore negli ultimi dieci anni con la giunta a Guzzi, riaccende la polemica sulla polizia municipale fanese. Il consigliere di opposizione continua la sua battaglia contro le multe facili. Nel Mirino finisce la zona di Sassonia e il messaggero pubblica la foto che Santorelli ha inviato alle redazioni dei mezzi di informazione locali. Ed è questa qui la fotografia, quella che appunto si riferisce alle multe fatte recentemente. Siamo nella zona di Sassonia, praticamente vicino al pesce azzurro, tanto per farvi capire un po' la zona. Ed ecco qui, vedete l'auto con tanto di multa. Mentre Santorelli fa riferimento ad un episodio che ieri abbiamo raccontato, in tutti i dettagli, insomma, sul nostro sito inter, lo andremo a vedere, di un'ambulanza del 118 che doveva andare a soccorrere una persona che si era sentita male in spiaggia e che purtroppo ha dovuto subire dei ritardi a causa, e lo vedremo nelle fotografie sul nostro sito, aveva biciclette, motorini parcheggiati un po' su ambo i lati e di conseguenza l'ambulanza ha avuto difficoltà a raggiungere il punto lungo la spiaggia per poter caricare appunto e soccorrere questa persona. Replica Marchegiani, che è il vice sindaco, dice sorprende che un ex assessore, dunque Santorelli, inviti i vigili urbani a girare la testa in caso di irregolarità. Temperature bollenti, sempre sul messaggero di oggi, luglio si avvia a battere il record di caldo. Allarme siccità nel mese, non è caduto neppure un millimetro di pioggia. In realtà la nostra centralina, lo abbiamo visto, segnala due millimetri di pioggia, però insomma, stiamo parlando del nulla. Poi, sempre sul messaggero, lavoro, ogni mese 100 licenziamenti, il futuro resta grigio. Dal Job Act un riflesso positivo sulle nuove assunzioni, ma non basta. I dati da inizio anno non sono affatto incoraggianti. La preoccupazione del sindacato, intanto la Filcams CGL, prosegue la campagna di sensibilizzazione sui lavori, sugli stagionali. spiaggia per cani, a Pesaro aumentano in O per Villa Marina, anche l'osservatorio degli enti locali è contrario. La giunta va avanti, il piano approvato per i primi di agosto. Dalla prima pagina del messaggero ci concentriamo sulle previsioni del meteorologo Massimiliano Fazzini, quale dice il problema che di giorno in giorno sta montando in importanza è quello della siccità. Anche sulla nostra regione, la regione Marche, le riserve idriche montane iniziano a scarseggiare. I modelli evidenzierebbero poi che la nuova settimana sarà ancora dominata da queste caratteristiche climatiche e neppure l'eventuale passaggio perturbato del prossimo weekend riuscirebbe a smorzare l'ondata di caldo. Per cui le temperature odierne saranno comprese tra 32 e 39 gradi, mentre le minime tra 18 e 26. E adesso cambiamo giornale, andiamo sul Corriere Adriatico. La pagina di Fano, pagina di Fano che si occupa degli eventi e manifestazioni che sono state cancellate e gente che saluta la città e dice bye bye Fano. Il presidente degli albergatori abbiamo, dice, perso la faccia e perso anche comitive di visitatori. Stiamo perdendo tutti i treni, siamo partiti in quest'estate bene per fare una città dormitorio. E' quanto sostiene, amareggiato e deluso, il presidente di alberghi e consorziati, Luciano Cicchini, per la programmazione della stagione estiva e per l'assenza di eventi di forte rilevanza in grado di richiamare turisti. E fa riferimento ovviamente alla Fano dei Cesari e al Carnevale estivo che erano stati comunque promossi nelle varie fiere, quelle a cui partecipa anche il Comune di Fano, tipo quelle che si svolgono a Milano, ma non solo, anche nel resto d'Europa. Salta pure itineris, addio a 1500 ospiti. Davvero poca roba, insomma. Poi sotto, invece, sosta selvaggia, proteste e raffiche di multe, Santorelli rilancia il tema segnalando il caso del 118 bloccato e chiedendo un vigile urbano di prossimità e non esattore. Poi sotto, la Gcomma. La Gcomma è quell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni che ha sanzionato il Comune di Fano, nel senso che ha dato ragione ai grillini che sostenevano quasi alla fine della campagna elettorale per le regionali che il Comune stava facendo un po' troppe, sintetizzo, inaugurazioni, troppi eventi che avevano il sapore di propaganda elettorale. La Gcomma ha analizzato un po' le carte, questa autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e ha dato ragione sostanzialmente alla segnalazione dei 5 Stelle di Fano. Quando poi la Gcomma sanziona, come in questo caso il Comune di Fano, sanziona un ente o un emittente o quant'altro, chiede poi che venga informata la popolazione. E così è stato chiesto di fare anche nei confronti dei cittadini di Fano, che avrebbero dovuto vedere sul sito internet, sul portale del Comune, un comunicato nel quale appunto dice la Gcomma, eccetera, eccetera. Sanziona il Comune per questo e quel motivo. In realtà la censura pubblicata con un asettico link e senza il messaggio richiesto. Poi, comedia dialettale, per ridere alla Reda BCC, questa sera c'è una commedia dialettale fanese alle 21.15, la compagnia di Gallo con lo spettacolo Na Mastella de Bugi, un sacco di bugie, commedia di Paolo Cioppi, appuntamento alle 21.30. Poi, sempre sul Corriere Adriatico, da Fossombrone, a spasso tra Colli e Monti su moto d'epoca, 50 partecipanti al tour organizzato dal club Le Veterane, soci che sono arrivati da tutta Italia. Si parla di questo tradizionale raduno nazionale di moto d'epoca che è partito da Fossombrone per raggiungere la vetta, il Monte Nerone. Dal Corriere Adriatico di Pesaro, anche qui guardate la fotografia scattata dall'alto, la fotografia che testimonia l'assalto alle spiagge e soprattutto alla sosta selvaggia, telefonate di protesta al comando dei vigili urbani, multe e sequestri anche di merce abusiva. Il litorale affollato grazie ai turisti del fine settimana e ai bagnanti e pendolari che appunto arrivano dall'entroterra, segnalati anche alcuni furti. Picco di 35,7 gradi, il caldo prosegue, all'erta adesso per la siccità. La statale è un lungomare, gravi rischi soprattutto di notte, continui attraversamenti con la carreggiata ristretta durante le feste serali, ampi tratti di strada che poi sono immersi nel buio e che sono di fatto una roulette russa, perché sì, uno attraversa, ma insomma è sempre un rischio molto grande quello di attraversare la statale senza illuminazione come in alcuni tratti della Fano Pesaro. Vigili, e siamo sul resto del Carlino, vigili come agli esattori mai sazi, nonché non si accontentano mai. Santorelli, ex, tra l'altro sindaco, con delega alla Polizia Municipale, se non ricordo male, gli interessa più, dice Santorelli, più fare multe che mettere divieti. E ricorda, appunto, che scrive nel suo comunicato oggi veniamo a sapere che proprio in quella zona un'ambulanza, quindi a Gimarra, non è riuscita a raggiungere la spiaggia a causa dei motorini e delle biciclette che ostruivano il passaggio senza che ci fosse alcun divieto di sosta per alcun mezzo. E poi ricorda anche l'altro evento, l'altro fatto, che è avvenuto in via Bramante, a Sassonia, dove alcune auto sono state multate malgrado non fossero d'intralcio in una via a senso unico. Allora, andiamo a vedere velocemente, usciamo un attimo dalla touchscreen, andiamo a vedere un attimo il nostro sito internet all'indirizzo occhialanotizia.it dove ieri abbiamo pubblicato la notizia e anche le fotografie. Le fotografie che sono arrivate, che noi puntualmente abbiamo subito pubblicato. Ecco il fatto specifico, quello che vi stanno raccontando oggi tutti i quotidiani, eccolo qua il fatto specifico. È proprio l'ambulanza che sabato pomeriggio era vicino alla spiaggia dei Fiori, doveva intervenire perché c'era una signora che era una donna diabetica che si è sentita male in spiaggia. Il codice che è stato assegnato a questo intervento era un codice rosso, quindi vale a dire di massima urgenza perché indica un soggetto con almeno una delle funzioni vitali compromesse. Dunque questa è la situazione in cui si è trovata l'ambulanza, quindi con grosse difficoltà. Però vedete, guardiamo un attimo perché poi ci torneremo con la nostra truppo oggi cercando di capire un po' meglio. Andremo a vedere le fotografie. che qui siamo in una giornata come quella di sabato, sabato pomeriggio, figuriamoci, c'era il mondo al mare poi con le temperature così alte. Ma vedete, a destra, guardando il teleschermo, a destra tutti i motorini più o meno parcheggiati regolarmente. Il problema forse resta per le biciclette invece parcheggiate sull'altro lato, quello di sinistra, quello che costeggia praticamente la ferrovia. Credo, ma poi non sono un esperto di viabilità per cui potrei anche dire una stupidata, ma comunque credo che forse in questo caso basterebbe porre un divieto sulla staccionata, quindi sul lato della ferrovia. Se lì si impedisce a chiunque di parcheggiare, di mettere le biciclette appoggiate lì, ecco, rimarrebbe praticamente comunque un bel tratto di strada comunque libero. Ecco, quindi probabilmente si passerebbe senza grosse difficoltà. Ecco, quindi, che potrebbe essere una soluzione, cioè quella di non far parcheggiare assolutamente le biciclette o i motorini comunque su quel lato, quindi sul lato sinistro. Fotografie, altre fotografie che abbiamo pubblicato sempre ieri sul nostro portale, ecco qui, vedete, le biciclette sulla sinistra, più o meno ordinatamente, invece quelle sulla destra e credo che lì possano continuare a rimanere, anche perché da qualche parte, insomma, sta gente dovrà pure parcheggiare. Ecco, vedete, l'ambulanza e le biciclette, soprattutto queste biciclette, il fotografo giustamente ha evidenziato quale potrebbe essere il problema e sono quelle a destra, vedete, le biciclette che sono parcheggiate a destra. Ok, usciamo dal nostro giornale, da occhialanotizia.it, le ultime notizie sui quotidiani, sempre dal resto del calino, vedete, qua invece non ci sono, non è stato, non sono state le biciclette a creare disagi, ma una singola macchina, che tra l'altro poi è stata presa anche di mira con un cartello, qualcuno ha tentato di rompergli lo specchietto retrovisore, insomma, c'è scritto str, vabbè, il cartello, poi hanno chiamato i vigili, ovviamente, perché? Perché questa golf ha bloccato il sottopasso, siamo sempre Trafano e Pesaro, sono stati chiamati i vigili, vendetta sull'auto, i bagnanti hanno scritto questo cartello, rotti i tergicristallo, ma il carattrezzi non c'era, tutti costretti a contorsioni per raggiungere la spiaggia. Poi è arrivata la municipale, vedete qui c'è l'agente della polizia, che ovviamente, credo, ha sanzionato l'auto parcheggiata in quel modo, oppure no, non lo so, perché, però, insomma, ha creato un'ottore disagio. Poi, invece, a Gabice, in un hotel di Gabice, una cameriera ha servito detersivo per piatti al posto dell'acqua ad un turista, un turista che ovviamente lo ha bevuto questo bicchiere ed è finito in ospedale. Si tratta di una donna che poi è stata per fortuna dimessa, però sono arrivati i carabinieri per fare tutti gli accertamenti del caso. Fotografò il suo voto a favore dei grillini e sotto processo un elettore troppo solerte. Il rumore dello scatto, poi postato su Facebook, venne sentito nel seggio. Si tratta di un 42enne di San Giorgio di Pesaro che ha fotografato il suo voto alla Camera e al Senato in una cabina elettorale. Era domenica 24 febbraio del 2013. L'altra notizia che arriva da Monbaroccio e qui chiudiamo è destinata a creare ancora un po' di rumore, di chiasso perché a un certo punto a Monbaroccio mentre si stava svolgendo una festa di beneficenza è arrivato il vice sindaco di Monbaroccio un certo Mauro Ferri che ha chiesto alla DJ di abbassare la musica. Era mezz'ora prima di mezzanotte. La SIAE aveva dato il permesso a questi organizzatori di suonare la musica fino alle due di notte e evidentemente qualcuno gli avventori di questa festa circa diverse centinaia di persone che erano lì presenti hanno visto e hanno assistito a questa scena scena che ha un po' come dire abbassato i toni nel senso che ha rovinato un po' l'atmosfera. Era una festa di beneficenza si raccoglievano soldi per l'ANT nell'ambito di una prevenzione del melanoma insomma un'associazione nazionale dei tumori dopo questa scena il DJ Papi credo si chiami così abbassato irritato un po' abbassato non il DJ il vice sindaco dice ero irritato è vero ma non penso dice lui di essere stato maleducato con il DJ e mai mi sarei immaginato di scatenare forti reazioni così forti il fatto sta che adesso è scoppiato questo caso i volontari di questa festa si sono un po' arrabbiati e anche il sindaco di Monbaroccio insomma pare che abbia storto il naso per l'azione di questo suo collaboratore adesso vedremo il vice sindaco non riusciva a dormire interrotta la festa di beneficenza scoppia un caso all'ira dei volontari bene ci fermiamo qui non c'è altro la rassegna stampa torna domani mattina alle 7.30 e noi invece ci vediamo questa sera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia a voi tutti l'augurio di una buona giornata Grazie a tutti